Buonasera a tutti e a tutti, mi chiamo Anna Simone, sono ricercatrice SPS 12, sociologia giuridica della devianza e del mutamento sociale e lavoro e insegno presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Roma III. Faccio parte dell'AIS, Sociologia del Diritto, e ci tengo a precisare anche di un network informale che è nato durante la pandemia, con tante sociologhe e sociologi che si sono riuniti attorno a un testo manifesto che si chiama Pandemia e Giustizia Sociale, il network si chiama per l'appunto, informale e rimarrà presumibilmente tale, Sociologia di Posizione. Perché questo? Perché noi crediamo moltissimo nel fatto che il rilancio di tutte le sociologie, non solo in tempi pandemici, ci debba anche passare dal ripotenziamento del pensiero critico, non fosse altro perché i nostri padri, Marx, Weber, Durkheim e anche altri, anche diciamo gli autori più importanti del Novecento, penso a Pierre Bourdieu e a molti altri, hanno fatto questo genere di lavoro sociologico. Sono qui per partecipare attraverso un video al convegno nazionale come richiestoci e in particolar modo per quel che riguarda AIS, Sociologia del Diritto. Dirò molto brevemente delle cose perché in 5 minuti è piuttosto difficile riuscire a fare una relazione compiuta e le dirò relativamente ad un tema che ho già affrontato attraverso una relazione più consistente al convegno di fine mandato di AIS, Sociologia del Diritto, che si è tenuto in novembre e preso cui abbiamo eletto il nostro nuovo coordinatore, il professor Carlo Pennisi. Tra le varie piste di ricerca che ho attivato nel corso degli ultimi anni, bene è in particolar modo una piuttosto consistente e cospicua relativa al concetto di femminismo giuridico. Il femminismo giuridico è un testo pubblicato da Mondadori Università che ho scritto assieme a due filosofi molto giovani del diritto, Ilaria Boiano e Angela Condello e ora è stato acquisito da Rutledge e uscirà in lingua inglese con il titolo Legal Feminism Italian Theories Perspective, cosa a cui teniamo moltissimo. Che cos'è il femminismo giuridico? Il femminismo giuridico è un approccio allo studio del diritto che agisce dentro e contro il diritto, dall'interno per modificarlo e dall'esterno per criticarlo qualora il diritto non tenga conto, oltre che della differenza sessuale di tutte le altre differenze. Il nostro tuttavia non è un approccio banale e non è neanche un approccio scontato. Negli ultimi tempi assistiamo in maniera piuttosto sconcertata a divisivismi sul fronte dell'opinione pubblica che riguardano alcuni temi molto importanti come per esempio la maternità surrogata oppure come il DDL-ZAN. Con l'approccio del femminismo giuridico noi pensiamo e riteniamo che questa stagione contemporanea attraverso cui i diritti fondamentali, per intenderci quelli sanciti dall'articolo 3 della Costituzione per quel che riguarda la differenza e di genere ma anche le altre differenze, vengono sistematicamente bypassati dal bisogno e dal desiderio di rivendicare dei diritti cosiddetti differenziali su base identitaria che paradossalmente finiscono con l'etichettare anziché con il promuovere appunto i diritti determinati gruppi sociali, determinati gruppi di attori sociali che si costituiscono sulla base del loro orientamento sessuale o sulla base del loro genere. Tra l'altro il dibattito pubblico sul DDL-ZAN che ho seguito con molta attenzione, come dicevo si è svolto attraverso accenti divisivi identitari che solo in alcuni casi hanno colto la complessità del nesso e del rapporto che intercorre tra diritto, diritti, giustizia e società o mutamenti sociali. Su questo DDL infatti l'opinione pubblica si è divisa tra pro e contro, dimenticando alcuni problemi di contesto e preesistenti come quelli che sto per elencare. Per esempio, noi abbiamo già la legge Mancino del 25 giugno del 1993 che vieta ogni organizzazione, associazione, movimento, gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, a cui si potevano aggiungere anche tutte le altre fatti specie come l'incitamento all'odio di genere o alle forme di discriminazione e violenza basate su orientamenti sessuali non conformi alla norma eterosessuale. Perché fare ancora una legge? Perché le soggettività che stanno emergendo, poi il DDL-ZAN non è mai passato, mediamente rispondono anche a delle esigenze di valorizzazione che hanno a che fare anche con tutta la questione dell'estrazione del valore economico dalle differenze. Il diversity management, la scuola McKinsey di Londra, insomma sono tante le indicazioni che ci provengono per chi studia, anche le trasformazioni del capitalismo come me in relazione ai diritti e al diritto, sono tante le forme oggi di estrazione del valore dalle differenze. Questo meccanismo, questo processo l'abbiamo chiamato inclusione differenziale, nel senso che a volte si può essere inclusi solo sulla base delle proprie differenze ed è un processo, un meccanismo che mira a bypassare la cultura dei diritti fondamentali. Per una sociologa del diritto tutto questo è piuttosto grave, faccio solo un esempio molto rapido anche se ho di gran lunga superato i tempi, che cosa vuol dire inclusione differenziale e che cosa vuol dire diritti differenziali. Nell'articolo 3 della Costituzione, per esempio frutto di un grande dibattito avvenuto tra Lelio Basso, Aldo Moro e Palmiro Togliatti, il concetto di pari dignità sociale mette tutti gli attori sociali, nonostante le loro differenze, sullo stesso piano. Invece oggi noi assistiamo ad una sistematica richiesta di diritti differenziali che a volte li possiamo inserire all'interno dell'alvio dei diritti antidiscriminatori che non provengono dalla fonte costituzionale, quindi dall'articolo 3, dal concetto di pari dignità sociale, bensì da una sorta di americanizzazione del civil law, del diritto occidentale. Per esempio derivano spesso dall'equal protection. L'equal protection è una carta dei diritti che mira a balcanizzare e a frammentare i diritti in special rights, cioè in diritti specifici per gruppi sociali specifici di persone. Questo processo è stato, questo meccanismo contemporaneo che ha molto a che fare appunto con i dispositivi di inclusione sociale. Noi come studiose e come costruttrici del concetto di femminismo giuridico miriamo a criticarlo perché riteniamo che sia nuovamente centrale la protezione della persona umana e della sua dignità attraverso i diritti fondamentali. La pandemia per esempio adesso al netto di tutte le questioni e i conflitti sul genere e l'orientamento sessuale ci ha insegnato proprio questo, comunque avrebbe dovuto insegnarci proprio questo, e cioè che i diritti fondamentali erano già stati molto erosi e il paese si è trovato impreparato ad affrontare un'emergenza sanitaria come quella pandemica. Riflettere sul rapporto che intercorre tra eguaglianza o differenze significa prevalentemente riflettere sulle modalità attraverso cui la riproduzione sociale prende in carico anche criticamente i dispositivi di inclusione e noi sociologi, soprattutto noi sociologi del diritto e della politica, abbiamo il dovere in qualche modo di vegliare scientificamente nel momento in cui accadono dei superamenti o degli abusi invece dei nostri diritti fondamentali ancora vigenti. Non posso in così poco tempo spiegare meglio, diciamo analizzare meglio questi studi, ma sono qui soltanto per, non solo per testimoniare, per partecipare al convegno e per dare il mio brevissimo, rapidissimo, ipersintetico e quindi forse neanche troppo chiaro o contributo. Grazie.